quale assaggio per prima questa fantasia mi è familiare caspiterina il sapore diventa così intenso che mi arriva fin dentro le orecchie all'improvviso comincia a sentire uno strano rumore proveniente dal salotto mando giù la saliva e la sento ancora più forte sono qui qui sono io il divano di casa tua il telecomando è incastrato nel mio fianco fa malissimo aiaiaia che dolore ma il divano mi sta parlando ha proprio detto che il telecomando è lì è da domenica scorsa che lo cerchiamo e papà mi ha pure fatto una bella ramanzina per non averlo sistemato al suo solito posto mi faccio coraggio e mi avvicino ora sì che va meglio solo un'ultima cosa se vedi tuo padre di un po di smetterla di fare le puzzette e io sono stufo resfilare è impossibile insomma di trattenersi quando si siede qui questo era un estratto dalle caramelle magiche di kina beck edito da terra di mezzo editore vi abbiamo letto un pezzettino giusto al centro quindi vediamo il nostro protagonista che mangia una caramella e improvvisamente sente che cosa gli dice il suo divano e a me piace particolarmente questa parte perché il divano che si lamenta delle puzzette del papà è estremamente divertente